Porto d'Ascoli arriva alla seconda promozione consecutiva, adesso hanno conquistato l'eccellenza. Abbiamo parlato del futuro della squadra, della società e di queste grandissime annate con il presidente Filippo Damiani. Io penso che ormai siamo arrivati dove la nostra possibilità può arrivare. Cercheremo di fare un buon cammianato, ma quello che abbiamo fatto l'anno scorso è quello che abbiamo fatto quest'anno. Rispetto ad altri ambienti dove tutto viene esasperato, qui sembra quasi un'isola felice, anche l'organizzazione del terzo tempo che fate solo voi, è anche questo uno dei segreti del successo? Sì, anche questo perché noi, anzi, a non far pagare nemmeno il biglietto, il terzo tempo, tutto, ma soprattutto è l'accordo che andiamo. Noi siamo 6-7 persone che andiamo d'accordo, quello che dice uno, quello che dice magari il presidente del settore giovanile, che è lui che è sempre qua presente, che fa quasi tutto lui. Cerchiamo di seguirlo, di rispettarlo e andiamo d'accordo e tutto qua. Il settore giovanile sta andando bene, oggi gioca anche contro la Samb, oggi c'erano anche molti ragazzi, è molto importante, l'anno prossimo vedremo altri giocatori giovani? Sì, sì, noi cerchiamo di tirar fuori sempre i giovani per la prima squadra, però il settore giovanile sta andando benissimo, diciamo quasi come la prima squadra, perché siamo secondi con una partita in meno, perciò siamo proprio i primi quasi in tutte le categorie.